A Roma by Night con meravigliosi modelle abbiamo qui una cara amica che già abbiamo intervistato un po' di tempo fa per una sfilata di moda, oggi è tornata ricordiamo i nostri ascoltatori e telespettatori con chi abbiamo il piacere di parlare Aurora Quanti anni hai? 18 Da dove vieni? Cresinone Io vi faccio ripetere un po' tutto quello che già abbiamo detto nella scorsa presentazione, intervista perché magari il pubblico è nuovo Sì, sì, vabbè, normale Com'è andata l'altra volta l'esperienza appunto di moda? È stata una bellissima esperienza, era la mia prima volta e la rifarei altre cento volte cioè non cambierei nulla perché diciamo abbiamo legato tutte le ragazze, cioè noi di ragazze abbiamo legato tutte comunque la consiglierei, è un'esperienza che consiglierei Bene bene, ti ho visto con abiti elegantissimi, anche casual, sei stata molto brava Grazie Oggi ritirerai qualche premio o sei qui per qualche altro motivo? Sinceramente non lo so Vedremo, vedremo Esatto Allora in bocca al lupo e un saluto a tutti i nostri amici Crevi Ciao